Martedì 8 ottobre, presso Palazzo Soragna a Parma, si è tenuta la tavola rotonda Pronti per il mercato, quotazione EIM Italia, leva potenziale per lo sviluppo del business. Un'opportunità per quelle PME intenzionate a fare un salto di qualità all'interno del mercato globale. I tempi cambiano, il rapporto così solido col sistema bancario che tutte le aziende hanno avuto è stato un rapporto che ha dato dei risultati eccezionali nel corso del tempo. Oggi questo rapporto deve essere mantenuto ma deve essere anche modificato, strutturato in altro modo per far sì che questo mercato che è diventato enormemente più grande ed enormemente più competitivo possa essere ancora un mercato vincente per le nostre aziende. Al convegno parmense si è parlato soprattutto del cambio di paradigma e quel mondo imprenditoriale che vuole apriresi a un mercato più ampio e competitivo è chiamato a fare. Nel percorso di una PME verso la quotazione il ruolo di una banca come Biper è destinato ad essere fondamentale. Biperbanca è talmente radicata e ha una conoscenza così approfondita dei territori dove opera da oltre 150 anni e anche una conoscenza dei ragionamenti che possono fare gli imprenditori, le loro famiglie che certamente può costituire un punto di ancoraggio molto forte per tante medie aziende che hanno intenzione si possono avvicinare al mercato. Noi abbiamo un progetto ben strutturato che ha portato già un numero rilevante di medie imprese sul mercato dei capitali con grande soddisfazione e crediamo di poterlo fare ancora molto bene.